Buonasera a tutti, benvenuti alla Night Session di domenica 13 novembre. Sono le 22.55, sono quasi le 23 e dopo aver visto un filmone come Top Gun Maverick, da cui non mi aspettavo veramente nulla, rieccoci qua a parlare di Bitcoin. Vi faccio notare una cosa che effettivamente non vi avevo raccontato. Qui, dal grafico a 45 minuti, potreste pensare che effettivamente il settimanale inverso si sarebbe potuto chiudere qui e potreste chiedervi perché non ho ancora cambiato qua, nuovo, T inverso, secondo, terzo, eccetera, eccetera. E' semplice, a parte che, come vi dicevo, il diavolo sta nei dettagli e finché non riusciamo a superare appunto la media mobile in rosso, quella 50 periodi, come vedete stiamo continuando a scendere, come detto nelle precedenti analisi. L'altra cosa da far notare è questa, che è vero che siamo arrivati a otto giorni di questo settimanale inverso, molto forte di spinta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ma qui non abbiamo chiuso niente. Perché? Provate a pensarci un attimo. Eppure abbiamo sesto T-3 inverso, condizione necessaria e sufficiente, fatta. La risposta è semplice perché contano di più le barre giornaliere e qui, su questo top, siamo arrivati solo a 5, non a 6. Per cui abbiamo una divergenza rialzista, che non sappiamo quando avrà voglia di farsi viva, magari tra poco, peraltro, e ci manca un baffo, che potrebbe fare così, che potrebbe fare così. Dipenderà da che cosa vogliono fare anche lato indice. Perché lato indice prezzi, ormai siamo all'ultima chiamata. Ovvero, oggi undicesima barra, se da questo minimo vuole essere partito un settimanale che per ora non ha moltissima forza, è meglio che si sbrighi, perché se questa candela finisce sotto questo minimo a 15.588 mentre chiude, ci dice molto probabilmente chiusura di quarto settimanale e anche possibile chiusura di un mensile che è arrivato a 32 barre, durata media. Perfetto. Se invece non ha voglia di andare a chiudere da qui, è partito un settimanale che però non possiamo sapere se si è partito o meno, per un semplice fatto che non è stato violato uno swing, sono talmente lontani gli swing che non abbiamo fatto nulla di particolare. Vediamo, qui potrebbe essere, come detto, settimo, ottavo, nono, decimo e ormai però siamo alla fine. O si sale e si va a chiudere finalmente il settimanale inverso e poi attenzione a cosa succede, oppure abbiamo ancora tutta la candela di oggi per avvicinarci al minimo e fare con domani anche un minimo ancora ulteriore ma con candela verde. Ormai lo sapete, non so più a rispiegarlo. Quando è inverso e rossa, quando è indice e prezzi e verde. Perché? Perché oltre le 11 candele non si va, se con questa non si va a finire qui sotto, basta un minimo ancora ulteriore che finisca qui sotto ma con una candela verde che appartiene già al nuovo settimanale. Peraltro non ci sono cose particolari da raccontarsi, manca una salita per chiudere l'inverso e potrebbe partire proprio in concomitanza della chiusura del possibile primo t-1 partito da questo minimo appunto arrivato a 4 barre, ma essendoci volumi da ridere e avendo un trading range di questo tipo il suggerimento rimane sempre lo stesso. Se non avete niente da fare andate a rivedervi tutti i video chiamati trading days che sono gratuiti per partire a capire che cos'è la ciclica per arrivare all'evoluta. Io magari ne farò uno sull'inverso che diverterà al trading days 8, siamo arrivati a 7, vedo che non tutti arrivano al settimo video. Oppure potete farvi mandare gratuitamente gli appunti scrivendo la solita mail che ormai conoscete tutti e che però vedremo quando cambierà a un certo punto. Perché ci saranno tanti cambiamenti a gennaio, ci saranno collaborazioni, ci saranno tante cose ancora differenti, finiremo i test con le opzioni e vedremo tante altre cose interessanti. Per cui buonasera a tutti, ci vediamo domani se ci sono magari degli aggiornamenti interessanti da fare prima di mese giorno. Arrivederci! Grazie!